buongiorno a tutti sono sandro tognazzi vorrei parlare della ginastica che sto facendo che mi fa fare col dottore che viene in casa è una ginastica sempre che mi stanca parecchio anche se lui giustamente faceva mi fa fare un tot di di esercizi poi un tot anche di riposo ogni tipo di esercizio perché tot di riposo e tot di lavoro perché vada bene le cose comunque mi sento sempre alla fine molto stanco distrutto un po però vado meglio in giro e mi trovo bene ecco tutto questo merito suo solamente io spero di continuare a farli queste perché mi trovo abbastanza a posto anche negli esercizi dopo averli fatti anche se mi staccano parecchio rimango un po quella giornata un po po disturbato nel senso non di testa ma per i muscoli che mi fanno male un po però dopo vado abbastanza bene ecco e vi farò sapere ancora e vi saluto intanto e arrivederci